4, 3, 2, 1... La missione, considerata senza precedenti dall'Agenzia Spaziale, servirà a misurare la deviazione dell'asteroide, col quale l'impatto è previsto all'incirca tra settembre e ottobre del 2022. Un ruolo lo giocherà anche l'Agenzia Spaziale italiana, che ha messo a disposizione il microsatellite Licia Cube, che dovrà filmare le operazioni nello spazio.